5.000 farmacie in più, separazione dei tubi del gas dell'Eni, nuovo tipo di società, misura di giovani, più benzina e self-service. Sono solo alcune delle conseguenze del decreto sulle liberalizzazioni varato ieri dal governo. Il Premier Monti abbiamo tolto le tasse occulte, ora il Pil può crescere anche del 10%. Un decreto corposo e incisivo. Napolitano apprezza le liberalizzazioni varate dal governo. Berlusconi invece boccia Monti, la sua cura non ha dato alcun effetto, dovranno richiamare me, dice l'ex Premier. Intanto continua la protesta dei tassisti, mentre avvocati, benzinai e farmacisti annunciano pesanti scioperi. Ho fatto un guaio, così il comandante della Concordia, Schettino, avvisò la compagnia pochi minuti dopo l'impatto con lo scoglio all'isola del Giglio, ma la costa smentisce, non ci disse la verità. Intanto la nave si muove per il mare mosso, condizionando le operazioni di ricerca dei dispersi. Se dovesse vincere stasera Bergamo contro l'Atalanta, la Juventus potrebbe laurearsi campione d'inverno. Nell'ultima giornata di andata del torneo di Serie A, anche la Roma anticipa le 18, affrontando in casa il Cesena. Intanto l'attaccante Tevez dice no al Paris Saint-Germain e si offre al Milan. Sono le 7.33, una buona mattinata da tutta la redazione del telegiornale. Allora, finalmente ecco arrivato il giorno in cui possiamo parlare con cognizione di causa delle liberalizzazioni che sono state varate ieri. È stato un consiglio dei ministri lunghissimo, ben otto ore, questo perché ci fossero stati fino all'ultimo tentativi da parte delle lobby di condizionare le decisioni del governo. Alla fine ne sono usciti fuori ben 98 articoli. Ancora non sono evidentemente pronti per essere pubblicati sulla gazzetta ufficiale. Lo saranno probabilmente intorno a martedì, mercoledì della prossima settimana. Nel frattempo oggi il presidente del Consiglio Monti è a Tripoli, insieme a lui anche il ministro degli esteri e il ministro della difesa. È un viaggio importante perché bisogna anche ricostruire i rapporti con la Libia che ci fornisce gas e petrolio e noi restiamo qua a prendere confidenza per l'appunto con le misure varate dal governo. Marco Fratini. Da questa mattina ufficialmente l'Italia entra nella fase 2, quella della crescita, dello sviluppo ma anche degli inevitabili malumori che ogni cambiamento e alcuni di quelli proposti non sono passeggiate porta con sé. La lunga attesa per conoscere le liberalizzazioni di Mario Monti è finita poche ore fa ma ce ne vorranno molte di più per capire gli effetti delle misure per esempio nelle professioni che sono uno dei capisaldi del pacchetto, si sa. Il governo abolisce definitivamente le tariffe minime e massime si contratterà il dovuto tra cliente e professionista, notai esclusi, che però dovranno crescere di numero 500 in più. Contemporaneamente per avvocati e architetti si punta a facilitare l'accesso alla professione consentendo sei mesi di tirocinio anche ai laureandi in università. Per medici e veterinari non cambia niente. Tra le novità la ricetta un euro di capitale per aprire società di giovani under 35 ma saltano per tutti i vincoli per aprire nuove attività e arriva un tribunale per le imprese. Sui taxi, altra partita dura, sarà la nuova autorità per le reti, sentiti i sindaci, a decidere se aumentare o meno le licenze, ma lo farà da luglio. Sono previste compensazioni per i tassisti, arrivano le licenze part-time e il lavoro fuori comune ma anche su questo la decisione spetta all'autorità. Che è centrale anche nel tema delle tariffe energetiche, sui prezzi più bassi nel gas che il governo ha scelto di trarre dalla divisione della SNAM Rete Gas dall'ENI. Tetti anche sui pedaggi autostradali, niente separazione invece della rete ferroviaria da Trenitalia. Aumenterà il numero delle farmacie, 5.000 in più, con concorsi straordinari. Turni orari e sconti per i farmaci, solo quelli pagati dai clienti, saranno liberi. Nulla di fatto per le medicine di fascia C che saranno vendute solo dalle farmacie. Sui carburanti, nodo importante per i consumatori, si favorisce l'acquisto delle stazioni di servizio da parte dei gestori singoli che potranno rifornirsi di benzina e gasolio anche da compagnie diverse da quella di cui portano il marchio. In banca arriveranno i conti corrente low cost e chi contrae un mutuo potrà scegliere tra più polizze vita di copertura. C'è poi lo stop alle assicurazioni RC Auto Fasulle. Nel giro di sei mesi, contrassegni in cartacei saranno sostituiti con quelli elettronici o telematici e arriverà una vigilanza fotografica per immortalare i furbi. Ma qual è la filosofia che sottende tutti questi provvedimenti? Monti ieri era ospite di Lilligruber, qui ad otto e mezzo e così lo ha raccontata. Francesca Todini La ricetta di Monti per cambiare l'Italia è contenuta nel pacchetto di misure con cui il governo intende rilanciare la concorrenza nel paese. Non si tratta solo di una grande azione economica ma anche noi confidiamo di una grande azione sociale. Adesso il Premier auspica tempi stretti come lo è stato per la conversione in legge del decreto Salva Italia e poi spiega il governo ha lavorato soprattutto pensando ai giovani e al loro futuro. Avanti così anche per il prossimo impegno, la riforma del mercato del lavoro. Lunedì ci sarà anche Monti insieme ad Elsa Fornero all'incontro con le parti sociali. Noi siamo grati alle forze politiche che ci appoggiano in Parlamento anche perché ci sono stati di grande aiuto in questa fase nel farci capire meglio quali sono le aspettative, le preoccupazioni, gli umori delle diverse parti sociali. La fase 2, quella della crescita, passerà anche per un secondo decreto, quello sulla semplificazione, arriverà in Consiglio dei Ministri venerdì prossimo. Monti esclude inciampi nel governo, era già stato deciso, dice il Premier 8,5, ospite di Lilly Gruber, di posporre i provvedimenti dopo quello sulle liberalizzazioni. Le nuove misure, ha poi detto il Premier, avranno lo scopo di ridurre il costo della vita quanto alle categorie che protestano. Ci saranno momenti di tensioni, dice Monti, poi prevedo anche maturità da parte degli italiani, come è stato dimostrato dall'incredibile prontezza, seppure con grande dispiacere, con cui è stata accolta la riforma delle pensioni a dicembre. Nel programma della Gruber Monti esprime apprezzamento per le forze politiche che lo sostengono, auspicando un maggior dialogo tra di loro. Non credo che una crisi di governo sia all'orizzonte, ma non guarda quanto staremo in carica, ma come lasceremo il Paese alla fine, aggiunge poi Monti. Infine il Premier dice un chiaro no a chi lo vuole preoccupato per Berlusconi, lo incontro spesso, chiarisce Monti e mi dà consigli come gli altri leader. Per propria convinzione. Dunque ci sarà una seconda parte la prossima settimana, così come sempre la prossima settimana si metterà a mano alla riforma del lavoro e forse si comincerà anche a discutere di legge elettorale, perché questa è la sollecitazione mandata dal Capo dello Stato ai partiti e soprattutto ai Presidenti delle Camere. Ma vediamo invece adesso nel servizio di Gaia Tortra quali sono state le reazioni per l'appunto, diciamo così, della parte politica alle privatizzazioni. Dopo un Consiglio dei Ministri Fiume, il giudizio più atteso forse lo riferisce proprio Mario Monti, quello del Capo dello Stato, che definisce il provvedimento sulle liberalizzazioni un provvedimento corposo e incisivo. Promosso ma con riserve e soprattutto con la richiesta di maggior coraggio da parte del PD, abbiamo visto un progetto lodevole e importante, dice Bersani, ma su diverse materie si può fare meglio e con maggiore immediatezza. Silvio Berlusconi invece la cura Monti l'aveva già bocciata prima di vedere le misure nel dettaglio, non dà frutti, aveva detto il Cavaliere, anche se ammette che al momento non ci sono alternative e quindi per ora il PDL non staccherà la spina al governo. Sulle liberalizzazioni Berlusconi promette saranno modificate in Parlamento e il PDL è pronto a tornare in pista. Il sostegno al pacchetto di provvedimenti arriva invece dal terzo polo, mentre per l'Italia dei valori le decisioni definitive sono ancora da leggere. Un conto è vendere un prodotto, afferma Di Pietro, un altro è assaggiarlo. Le cose più incisive come ferrovie, energie e settore bancario e assicurativo sono state rinviate. Ma per l'Italia dei valori almeno una cosa è certa. Il ministro Passer ha fatto bene a bloccare il Beauty Contest che era solo un regalo corruttivo a Rai e Mediaset. E fra i partiti da sempre, dall'inizio, contrario a questo governo, lo sapete, c'è la Lega, Lega che domani ha un appuntamento importante a Milano, una grande manifestazione. Il problema è come ci arriva questa manifestazione. La Lega che nei mesi scorsi e nei giorni scorsi in particolare ha visto acquirsi il contrasto fra i cosiddetti maroniani e il cerchio magico ed è finita, lo sapete, con l'applauso del teatro di Varese a Maroni che aveva accanto a sé Bossi. Dunque a farne le spese è il capogruppo alla Camera della Lega, Reguzzoni che molto probabilmente verrà sostituito da Giampaolo Dozzo che è un leghista trevigiano della prima ora e così appunto si andrà alla manifestazione di domenica. Intanto invece sale la protesta delle categorie interessate per l'appunto da queste liberalizzazioni. In primis i tassisti che si erano fatti sentire parecchio nei giorni scorsi. Ebbene, ieri sera ci sono state nuove proteste, a Napoli per esempio è stato assediato il Teatro San Carlo, queste immagini invece si riferiscono a Roma. Roma dove hanno detto i tassisti oggi scenderanno tutti in strada, tutte 8 mila le auto, così la gente si rende racconto di cosa vuol dire girare senza turni. E comunque è confermato lo sciopero del 23 di gennaio prossimo in attesa di nuove manifestazioni. E anche in Sicilia la situazione resta tesissima. Lo sapete, il movimento dei forconi praticamente per cinque giorni ha bloccato l'intera regione. A mezzanotte è scaduto il blocco degli autotrasportatori ma la situazione si sta normalizzando con molta difficoltà. A Palermo per esempio non gira più neanche una macchina perché non c'è più benzina per nessuno. E la protesta, dice il movimento dei forconi, andrà comunque avanti almeno fino al 27 anche se a macchia di Leopardo. Invece noi adesso ci spostiamo a Milano. A Milano perché anche se forse ce l'eravamo un po' dimenticati, nel frattempo sono in corso ancora i processi che vedono imputato l'ex Presidente del Consiglio, ovvero Berlusconi, che per l'appunto ieri era proprio a Milano durante l'udienza del processo Milano e anche oggi sarà a Milano per la questione delle frequenze Mediaset. Ma ieri si è intrecciato con un'altra vicenda ancora che lo vede in qualche modo coinvolto, cioè il procedimento a carico di Fede, Mora e Minetti e delle ragazze dell'Oggettina. Ce lo racconta Marco Ferini. Oggi Silvio Berlusconi non sarà in aula al Tribunale di Milano per seguire il processo sui diritti televisivi Mediaset, dove è imputato di frode fiscale. Ieri però, durante l'udienza del processo Mills, dove è accusato di corruzione in atti giudiziari, non è mancato. Per una coincidenza, a pochi metri di distanza, quasi contemporaneamente, si svolgeva il RubyBis, processo collegato a quello che lo vede imputato per concussione e prostituzione minorile. Qui sono accusati di induzione e favoreggiamento della prostituzione Emilio Fede, Lelemora e Nicole Minetti, due delle più assidue frequentatrici del Bunga Bunga, la modella brasiliana Iris Berardi e la showgirl Barbara Guerra, si sono costituite parte civile contro Nicole Minetti. Le ragazze rivendicano il danno morale e la Corte ha accolto la loro richiesta. In aula erano presenti altre tre parti civili, Ambra Battilana, Chiara Danese e la modella barocchina Imane Fadil. Gli avvocati di Emilio Fede hanno fatto due richieste, spostare il processo a Messina per competenza territoriale e unificarlo con quello a carico di Silvio Berlusconi. Sarà il presidente del tribunale a decidere. Berlusconi, poco distante, ascoltava le parole dell'avvocato inglese David Mills, accusato di essere stato corrotto per dichiarare il falso in due processi a suo carico. Non ho mai preso soldi per tacere, ha ribadito Mills in videocollegamento da Londra. L'avvocato inglese ha da tempo ritrattato la sua prima versione dei fatti, cioè aver ricevuto 600 mila dollari per aver tenuto Mr. B fuori da un mare di guai. I giudici hanno fissato otto udienze fino all'11 febbraio. Qualsiasi decisione sul processo Mills non avrà effetto, ha dichiarato ieri l'ex premier. La prescrizione, infatti, dovrebbe scattare il 14 febbraio. Vedremo che arriverà prima. Intanto noi andiamo all'isola del Giglio, perché il governo ieri ha anche dichiarato lo stato di emergenza. E' affidato il ruolo di commissario straordinario al prefetto Gabrielli, che peraltro è anche il capo della protezione civile. Tutto questo mentre la nave intanto continua lentamente a scivolare verso i fondali più profondi. Massimo Mapelli. Ho fatto un guaio, abbiamo dato un urto, c'è stato un contatto con il fondale. Sarebbero queste le parole del comandante della nave Concordia, Francesco Schettino, pronunciate nella prima telefonata con l'unità di crisi della Costa Crociere alle 22 e 5 minuti di venerdì 13 gennaio. Parole che emergono dal racconto fatto da Schettino ai magistrati di Grosseto nel corso dell'interrogatorio di garanzia di martedì scorso, al termine del quale è stato scarcerato e posto agli arresti domiciliari. Secondo Schettino la compagnia sapeva ma questa versione dei fatti viene contestata proprio da Costa Crociere. Schettino non ci ha detto la verità e ha mentito all'equipaggio nascondendo la gravità della situazione al dichiarato il numero uno della compagnia, Pierluigi Foschi. Parole che attribuiscono alla condotta del comandante il ritardo nell'attuazione delle procedure di abbandono della nave e mentre si attendono i risultati degli esami tossicologici su Schettino gli inquirenti cercano di ricostruire con precisione la dinamica dell'impatto contro lo scoglio. Ho visto la schiuma, le onde increspate, ho cercato di evitarlo con una virata fermando le macchine, ha raccontato Schettino. I primi accertamenti sul timone della nave dimostrerebbero che ci fu una forte virata a dritta come se la Concordia, arrivando ad alta velocità, abbia cercato di evitare l'ostacolo all'ultimo istante. Ad una settimana dal naufragio, al Giglio, le ricerche dei dispersi all'interno dello scafo sono ancora sospese. Il relitto continua a muoversi, oscillazioni di almeno 7 mm l'ora secondo la protezione civile. 11 finora sono i corpi recuperati, ma 24 persone mancano ancora all'appello. Le condizioni meteo sono previste in peggioramento e la peggiore delle ipotesi è che le onde possano provocare lo scivolamento della Concordia su un fondale molto più profondo. Siamo molto preoccupati, ha detto il Ministro dell'Ambiente Clini, se la nave dovesse subire altri danni e i serbatoi dovessero rompersi, rischiamo veramente molto. Alle 7.46, Dol, buongiorno, Edoardo Soldati, la linea allo sport. Buongiorno Flavia, buongiorno anche a voi dallo sport. E allora, cominciamo a parlare di calcio perché oggi si gioca l'ultima giornata del girone di andata del campionato di Serie A con due anticipi alle 18 Roma Cesena e poi in serata la Juventus a Bergamo sul campo dell'Atalanta. cercherà di laurearsi campione d'inverno. Bruno Vesica. Sarà pur sempre un traguardo platonico ma nella storia del torneo quasi sempre il titolo di campione d'inverno è poi coinciso con lo scudetto a fine stagione. Ecco perché la Juventus che scende in campo stasera a Bergamo tiene come a centrare l'obiettivo. Primo su tutti per tenere lontano il Milan desideroso di un pronto riscatto dopo la delusione nel derby. Ma anche i bianconeri debbono farsi perdonare il pari casalingo imposto loro dal Cagliari domenica scorsa. Come non bastasse c'è anche un motivo sentimentale che lega Antonio Conte a questa sfida. Tre soli mesi passati sulla panchina dell'Atalanta nel 2009 sono stati però sufficienti per creare quel legame di stima con la società aerobica. Ma le parole del tecnico nella conferenza stampa di vigilia sono state tutte per la sua squadra e per l'obiettivo mai dichiarato dello scudetto. Se è vero che alla domanda se un terzo posto finale lo soddisferebbe Conte ha risposto recisamente con un no. Intanto però dovrà gestire bene le energie dei suoi uomini in questo Tour de Force che vedrà la Juve scendere in campo quattro volte in appena dieci giorni. Sarà però la Roma alle 18 ad aprire ufficialmente l'ultimo turno del girone d'andata ospitando il Cesena della Mina Vacante Mutu con i giallorossi sempre appesi alle decisioni del rinnovo contrattuale di Daniele De Rossi il quale però infortunato salterà la gara. Scherzi del calendario invece per il Minan che a soli quattro giorni dalla sfida di Coppa Italia si ritroverà domani di fronte a campi invertiti quel Novara costato l'ennesimo infortunio al brasiliano Pato a questo punto più croce che delizia del club rossonero. A chiudere questo giro di boa del torneo sarà l'Inter che domani sera cercherà contro la Lazio il via libera per proseguire la sua rincorsa a quella vita monopolizzata sinora dalla coppia Juve-Milan. Parlando di calcio al mercato ci si chiede naturalmente a che punto è la situazione che riguarda Carlos Tevez beh è sempre molto fluida ma possiamo dire che il Paris Saint Germain per lui è molto più lontano visto che ha rifiutato la generosa offerta degli Sheik e quindi vira decisamente di nuovo sul Milan il servizio di Francesco Izzi Non ci facciamo mancare nulla nel tormentone di Carlitos Tevez l'argentino adesso fa il capriccioso bloccando il passaggio al Paris Saint Germain che sembrava ormai certo ieri il suo agente aveva concordato agli ultimi particolari prima della firma tre anni e mezzo con 11 milioni netti a stagione che poi si scopre essere otto come stipendio base mentre al City sarebbero andati di 37 milioni di euro Mattevez ha puntato i piedi continuando nella sua scelta di volere solo il Milan adesso Galliani aspetta ma fallita la cessione di Pato non può andare oltre la proposta iniziale del prestito con diritto di riscatto serve comunque un attaccante e gli indizi portano di nuovo a Maxi Lopez L'inizio della prossima settimana sarà decisivo per la Juventus che vuole riempire la casella dell'extracomunitario si va verso il testa a testa tra Caseres e Guarin che hanno ruoli diversi e Conte preferirebbe avere il difensore che ha giocato a Torino nel 2009 la differenza con il Siviglia sembra essersi ridotta a un milione circa oggi però dovrebbe arrivare al Porto l'offerta bianconera di 11 milioni per Guarin 2 per il prestito e 9 a riscatto i portoghesi ne chiedono 13 in Brasile Marco Branca ha chiuso per il difensore dell'internazionale Juan Jesus ma il grande obiettivo è sempre Lucas del San Paolo l'Inter lo vorrebbe subito mentre per il club paulista si può fare a giugno la Lazio continua a lavorare su onda ma la trattativa non è semplice il CSKA ha rispinto la prima offerta prestito oneroso a 2 milioni e obbligo di riscatto a 11-12 la richiesta dei russi è di 16 milioni il campionato di basket e il girone di ritorno inizia con un anticipo che promette spettacolo Pesaro è la squadra più in forma del momento con 6 vittorie nelle ultime 7 partite ma Biella vuole proseguire nel cammino vincente iniziato contro Milano la 7 Evitas metterà in diretta il match oggi pomeriggio alle 16 Ugo Francicanava Pesaro e Biella ovvero le due squadre che hanno fatto più soffrire le big messe una di fronte all'altra la Scavolini-Siviglia ha cementato la sua fama di ammazzagrandi e la sua impressionante scalata al secondo posto in classifica con i successi contro Siena Cantù Milano e Bologna ma anche Biella ha al suo attivo le vittorie sulla Canadian Solar e sull'Empolio Armani 7 giorni fa nel campionato più aperto e spettacolare degli ultimi anni insomma all'anticipo della prima giornata di ritorno diventa match close e non per blasone quantomeno per condizione delle due squadre Pesaro è reduce da 4 vittorie di fila 6 nelle ultime 7 ed è la squadra più in forma del momento ha la miglior difesa del torneo per tiri da 2 tiri da 3 assist concessi e i tre americani in stato di grazia giochiamo contro una squadra molto pericolosa che ha punti di forza ben definiti ma allo stesso tempo è anche molto capace di dare variabile alla stessa partita alla stessa singola partita per cui c'è la necessità che da parte nostra ci sia molta attenzione sulla preparazione perché la forza di Biella e le caratteristiche di Biella lo impongono ma anche Biella dopo 5 sconfitte in fila ha ritrovato lo smalto dei giorni migliori dopo l'affondamento della corazzata di Scariolo un equilibrio ricostruito tra gli opposti poli della tipicità esplosiva di Coleman quarto realizzatore della Serie A e l'esperienza di Soragna il migliore contro Milano da tre partite in doppia cifra che Pesaro dovrà cercare di scardinare anche per migliorare uno dei punti deboli della sua stagione la relativa fragilità tra le mura del pala Adriatico dove i vice campioni d'inverno hanno già perso tre partite per i motori il countdown per la nuova stagione Superbike segna meno 5 settimane in Australia proprio lì dove scatterà i mondiali i motori sono già caldi Fabrizio Calia la Honda CBR 1000 RR è di un bianco candido che brilla sotto il sole australiano le scritte degli sponsor arriveranno tra poco per adesso bisogna soltanto mettere alla frusta le novità presenti sulla moto del team Tenkate a dicembre si erano già viste in Qatar quando il britannico Johnny Ria aveva bruciato tutti sul tempo in vista della nuova stagione ad occhio nudo non si può vedere granché ma ci sono molte differenze rispetto alla moto che ha chiuso il 2011 a Portimao telaio elettronica e sospensioni le aree in cui dal Giappone e dall'Olanda sono arrivate importanti unità tecniche che hanno fatto sorridere Ria e il suo nuovo compagno di squadra il giapponese Hiroshi Aoyama entrambi sono riusciti a completare simulazioni di gara e test sulla lunga distanza segno che il consumo delle gomme è decisamente meno critico rispetto al finale di 2011 il bel tempo poi ha aiutato il team anglo-giapponese tanto che la terza giornata di test si è conclusa quando ormai stava facendo buio e come trofeo di guerra per Johnny anche un serpente spezzato in due dalle sue ruote adesso la risposta da parte della concorrenza mercoledì scende in pista Valencia la BMW del vice campione 2011 Marco Melandri prima di chiudere una notizia aggiunta poco fa dall'Australia perché la nostra Sara Errani si è qualificata per gli ottavi degli Open d'Australia e svolgimento al Manburn e per la prima volta è fra le prime 16 in un torleo dello Slam la tennista bolognese si è imposta in 3-7 sulla rumena Sorana Cirstea con il punteggio di 6-7 6-0 6-2 davvero tutto per lo sport e allora noi ripassiamo la linea da Andrea Pancani ai suoi ospiti di Omnibus perché non abbiamo altre informazioni da darvi al momento ci rivediamo se volete domani mattina buona giornata